La Russia chiude Memorial e il mondo si indigna. L'ONU, l'Unione Europea e gran parte della comunità internazionale chiedono di sospendere la decisione del giudice russo, che ha sciolto la più antica organizzazione del paese a tutela dei diritti umani. Formalmente è stata chiusa perché in alcuni suoi post ha omesso di indicare di essere un agente straniero, come la legge russa etichetta le organizzazioni finanziate dall'estero. Abbiamo sempre detto che la cosiddetta legge sulla gente straniero è illegale, dice il presidente dell'associazione. Non deve essere modificata ma abolita, perché è nata con l'intento di soffocare la società civile e oggi ne abbiamo avuto un'altra prova. Siamo molto preoccupati, scrive la ministra degli esteri britannica. Memorial ha lavorato per decenni per assicurarsi che gli abusi dell'era sovietica non venissero dimenticati. La decisione della Corte Suprema è più che incomprensibile, dice il portavoce del governo tedesco, e contraddice le obbligazioni internazionali di proteggere i diritti fondamentali, obbligazioni a cui la Russia ha aderito. Memorial è un'espressione della nostra comune volontà di individuare e processare le violazioni dei diritti umani. L'associazione, nata alla fine degli anni Ottanta, fu la prima a raccontare l'orrore dei gulag, ma per il giudice russo non fa altro che buttare fango sul glorioso passato dell'Urs.